Francesca, ma noi adesso siamo pronti per andare a seguire Alessia Tornaghi, che è allenata da Edoardo De Bernardis. Triplo tolup, doppio tolup. Giustizia, giustizia, giustizia. Doppio accent. 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 E' molto bello questo finale con la musica di Prince per Alessia Tornaghi, coreografie sempre così curate da Edoardo De Bernardis durante proprio il lockdown parlando con Alessia e con Edoardo come del resto tanti pattinatori mi hanno raccontato c'è stato proprio un grande lavoro proprio nella ricerca coreografica in qualcosa di nuovo da inserire perché ovviamente non potendo essere sul ghiaccio Fabrizio si è guardato tanto anche all'altro aspetto Ma sai che è un discorso che si è affrontato tantissime volte il fatto che si era impossibilitati di purtroppo essere continuamente in corsa dietro alla stagione per gare, gare, appuntamenti, appuntamenti gare internazionali, appuntamenti finalmente obbligati a un certo punto in casa si è andato a rilavorare sulle basi, su quei piccoli dettagli che poi sono quelli che creano le sfumature e il grandissimo livello degli atleti che siamo abituati a vedere in contesti anche più importanti il programma di Alessia è stato molto accattivante soprattutto su quello che riguarda la parte finale con questa sequenza di passi magica su ogni singola battuta ma Edoardo ci ha già abituato anche con altre sue atlete su queste sequenze di passi questo è il dettaglio delle backspin dove vedete porta sulla gamba e va a raggiungere una posizione difficile che è la posizione Billman questo è il cambio di filo nella posizione d'Angelo un'altra difficult variation della posizione camel questa è una difficult variation della posizione bassa vedete come che è sul ghiaccio che sta patinando va a raggiungere il parallelismo col ghiaccio ed eccolo il punteggio per lei 61,75 di poco dunque dietro la Negrello che aveva 63,25 33,03 per quanto riguarda il tecnico 28,72 nella parte dei components per quanto riguarda i components di Alessia abbiamo un 7,08 di skating skill 7 le transition